Ciao e benvenuto. Oggi ti dirò le cose più importanti secondo me per cominciare a fare cosplay e non ti dirò soltanto le classiche cose tipo scegli il personaggio che ti piace eccetera ma ti dirò anche due consigli che online non ho visto dare mai in questi contenuti quindi seguimi fino in fondo così avrai una panoramica veramente completa prima di cominciare perché ci sono alcune cose che è bene sapere all'inizio. Detto questo io sono Veronica Forconi di Cosplay Fai Da Te e su questo canale ti racconto tutte le tecniche della sartoria o di varie altre discipline che rubo e metabolizzo e applico al cosplay così che tu possa fare un costume spettacolare. Il mio primo Luca Comics è stato nel 2013 e ho deciso di parteciparci all'ultimo e all'ultimo ho deciso di mettere insieme un po' di vestiti per creare un costume steampunk. Oggi non la definirei steampunk più una cozzoglia di cose però in quel periodo avevo un po' di vestiti di gioco di ruolo dal vivo e un po' di cose che potevo rielaborare quindi in 448 ho messo solo un costume. Mi sono divertita tantissimo e questa è la regola fondamentale del cosplay quindi se siamo d'accordo che il divertimento è la base del cosplay possiamo andare avanti. Prima regola Scegli un costume che ti piace perché se non sceglierai un costume che ti piace difficilmente lo porterai a termine oppure lo porterai a termine con fatica e non ti divertirai. Quando fai un costume, soprattutto all'inizio, sono tante le sfide che ti si pongono davanti quindi scegli un costume che ti piace. Uno bis, scegli insieme a un gruppo di amici perché ti divertirei molto di più e anche se ti venisse voglia di mollare perché avrai scelto un costume più complicato avrai delle difficoltà, non avrai tempo avrai sempre il tuo gruppo di amici che ti sostengono e che ti aiutano e che in qualche maniera ti aiuteranno ad arrivare fino in fondo, fino alla fiera fino ad indossare finalmente il tuo costume e a divertirti così da avere nuova carica per un prossimo cosplay. Due Se sei alle prime armi, scegli un personaggio che ti piace ma che sia abbastanza semplice come ti dicevo prima, una certa complessità del costume porta all'insoddisfazione di non vedere per lungo tempo risultati o vedere errori continui che gli errori servono perché puoi migliorare grazie ad essi però se sei all'inizio è meglio avere qualche soddisfazione in più per poter andare avanti con più carica mi spiego meglio per esempio, non ti consiglio di cominciare per esempio da un vestito di Maria Antonietta di Lady Oscar o comunque qualcosa di super accessoriato o con armature o con cose super complicate perché o fai tanto esercizio prima di mettere in pratica oppure via via se fai un'armatura intera ad esempio i primi pezzi che farai avranno un effetto molto diverso rispetto agli ultimi pezzi ci sarà una cura e una pratica diversa perché nel frattempo avrai acquisito esperienza con questo non ti voglio scoraggiare, assolutamente fallo però vai avanti non so se sai ma esistono i dream cosplay che cosa sono? sono quei cosplay che dici ah un giorno vorrei fare quel vestito perché è quello che... cioè il personaggio che adoro però al momento non ne hai le competenze quindi aspetta fai cose più semplici per prenderci la mano e poi buttati sul tuo dream cosplay numero 3 attenzione ai dettagli sia che tu faccia da solo il costume sia che tu lo acquisti i dettagli sono fondamentali e con questo intendo dalla testa ai piedi non intendo soltanto i dettagli tipo il braccialetto, la collana o la coroncina intendo anche la farrucca e intendo anche le scarpe perché un bellissimo cosplay con un paio di scarpe da ginnastica ti ammazza completamente l'atmosfera e ti fa sembrare un cosplay trascurato ti fa sembrare una persona che non ci tiene così tanto invece te magari ci hai lavorato tantissimo quindi cerca di abbinare un tipo di scarpe più verosimile possibile se non puoi avere scarpe o se magari il personaggio è scalzo e per le parrucche invece ti consiglio di spendere qualcosina in più perché le parrucche quelle super economiche di solito sono improbabili cioè sono super brillanti hanno dei colori innaturali e quindi il tuo effetto risulta un cazzotto in un occhio cioè detto tra di noi, un cazzotto in un occhio stessa cosa vale per il trucco anche se un personaggio apparentemente non ha trucco non lo sottovalutare perché grazie al trucco puoi andare a modificare leggermente la scultura per esempio del tuo viso o del collo e questo ti serve per assomigliare molto di più al personaggio se ad esempio invece vai a prendere un personaggio di un manga esiste il trucco occhi speciale per i manga, per gli anime quindi non sottovalutare questi piccoli dettagli che ti possono far fare veramente un grandissimo effetto anche con il tuo primissimo costume quindi anche se hai veramente una cosa super super basic se curi parrucca, scarpe e trucco farai furore cioè te lo garantisco detto questo passiamo alla prossima numero 4A se decidi di acquistare un costume puoi farlo tranquillamente è un ottimo modo per iniziare e per capire se questo hobby ti potrebbe piacere anche se acquistando un costume già fatto non ti rendi conto della complessità del hobby ma detto questo è un buon modo ed economico per vedere se ti riesci a trovare bene nei panni di qualcun altro se riesci a farti vedere in costume in mezzo a tanta gente e se riesci a superare delle altre piccole paure che vai tranquillo a nessuno importa niente tutti vogliono divertirsi quindi divertiti e lascia stare le paure cioè lascia le fare quindi puoi tranquillamente acquistare dei costumi quelli a basso costo sono principalmente di origine asiatica e quando andrai in fiera ti capiterà di vedere molto spesso dei costumi uguali quindi se scegli un personaggio molto famoso non ti stupire poi di trovare altri personaggi come te che può essere molto divertente per capire come altri interpretano lo stesso personaggio ma da un certo punto di vista se ti piace essere unico e diverso forse non è la scelta migliore un'alternativa a questo può essere tranquillamente quella di acquistare un costume fatto da un amico o fatto in casa che è un livello intermedio oppure affidarti a un artigiano che è specializzato nella realizzazione di costumi ce ne sono diversi ovviamente il prezzo è più alto però ti fanno sempre dei lavori spettacolari e tra questi artigiani mi inserisco anche io perché anche io faccio costumi su commissione detto questo passiamo al 4B ovvero se cominci a fare il tuo cosplay completamente da solo hai assolutamente tutta la mia stima tanti cuoricini e sul mio canale troverai un sacco di informazioni sull'ambito sartoriale o comunque legato al cucito al ricamo ed alcune tecniche molto particolari magari di tintura mentre ci sono altri canali specializzati ad esempio sul foam o sulla parte dei led o sulla parte delle armi o sulle armature quindi spippola un pochino e vedrai che online trovi un sacco di informazioni mi raccomando scegliti dei formatori che sanno di che cosa parlano e non io ho fatto questo ma della gente che lo fa di lavoro e che ti racconta come lo fa è importante perché altrimenti andrai a copiare gli errori di qualcuno che si è inventato un metodo lì per lì e l'ha caricato online detto questo però ti serviranno un sacco di strumenti accessori cose quindi si tratta di un investimento ed è un argomento più lungo e quindi siccome voglio veramente aiutarti farò un video nei prossimi giorni proprio specializzato su cosa ti serve per fare cosplay su cosa investire e su cosa invece puoi spendere meno all'inizio andiamo al prossimo punto numero 5 arriviamo a quello che nessuno ti dice come ci vai in fiera perché questo è fondamentale da sapere se vuoi fare il tuo primo cosplay cioè anche se lo acquisti qualsiasi cosa tu faccia sapere se ci vai in macchina se ci vai in autobus se hai un viaggio lungo un viaggio breve se vai a piedi con i mezzi pubblici ti cambia dal sapere se puoi portare un oggetto piuttosto che no ti faccio un esempio se vai a Lucca Comics prendendo il treno in orario di punta la mattina e speri di poter portare vestiti giganteschi ti dico subito per esperienza no non perché io l'abbia fatto ma perché io in colla a me partendo da Firenze avevo altre due persone quindi e non sto scherzando cioè era veramente così e si parla di 5 anni fa quindi assolutamente se scegli i mezzi pubblici non è ottimale scegliere vestiti particolarmente ingombranti e fragili detto questo ok ci vai in macchina va bene in quanti siete in macchina che altri costumi portano gli altri ci entrate tutti in macchina con tutti i vostri costumi riesce a impacchettarli in maniera tale che non si rovinino durante il viaggio tutte queste cose sono fondamentali da sapere secondo me quando si va a progettare un costume se invece dici non mi interessa io voglio portare questo costume allora a quel punto non c'è problema ma ti devi organizzare poi per il viaggio in maniera tale da poterlo portare perché sarebbe un peccato che arrivi all'ultimo e poi non mi entrava in macchina anche questo se vai a realizzare delle armi particolarmente grandi o per esempio delle ali cioè fai qualche prova pratica prima di concludere magari prima della fase del colore smonta tutto e vedi se ti entra in macchina cioè questo le prove qualche settimana prima della fiera sono sempre fantastiche quasi mai ci riesce la gente però sono veramente importanti da fare quindi cerca sempre di farle numero 6 va bene sei alla fiera cioè stai per andare alla fiera fantastico ti sei preparato alla borsa che tipo di fiera è? che tempo farà? ti farà freddo? non ti farà freddo? ti può servire qualcosa? avrai modo di fermarti a prendere da mangiare tranquillamente io lo ammetto sono un pochino iper organizzata per queste cose per me è importante stare super tranquilla e divertirmi quindi quando parto la mattina cioè no in realtà veramente già qualche giorno prima comincio a prepararmi una borsa con tutto quello che mi serve la prima cosa che ci infilo dentro è il kit di riparazione per i costumi che spesso porto anche quando sono in borghese perché è probabile che qualcuno abbia bisogno e su cosa mettere nel kit di riparazione ho un post su Instagram e su Facebook che puoi recuperare tranquillamente detto questo oltre al kit io porto sempre almeno una bottiglietta d'acqua anzi una borraccia da bella grossa d'acqua perché non sempre è facile fermarsi ad acquistare acqua o soprattutto senza fare code quindi quella è sempre una cosa buona qualche snack perché anche lì può fare caldo può fare freddo puoi avere bisogno di zuccheri di qualcosa o qualcuno intorno a te potrebbe avere un caldo di zuccheri perché non è stato così previdente da fare colazione magari sto parlando di tutte cose successe non è che sto inventando e quindi avere un kit di esolo di piccole cose che servono a godersi meglio la fiera in tranquillità secondo me è molto importante vabbè tazzoletti poi io utilizzo la tecnica dei panini nel senso quando riesco a mangiare in orari tipo a un quarto e mezzogiorno o alle tre e mezzo che non è proprio l'orario di punta mangio così altrimenti se so che ho un giorno sola per girarmi tutta la fiera cerco di portarmi almeno un panino dietro in maniera tale che poi posso fermarmi con più tranquillità poi ti ho detto il meteo che tempo farà cioè io non so te ma io alla mia salute ci tengo e soprattutto dovendo tornare a lavorare spesso mi sono portata in borsa qualche sciarpa qualcosa di un pochino più coprente e eventualmente l'ombrello di solito per il Luca Comics è fantastico perché paradossalmente non piove quasi mai fa quasi sempre calducino quest'anno è stato qualcosa di incredibile c'è un caldo a bollore insomma detto questo tutte queste qui sono le cosine che ti aiutano a vivere molto meglio la fiera inoltre la borsa puoi anche farla personalizzata puoi adattarla al personaggio oppure farla simile roccia nel senso che se la abbandoni e ti ci metti vicino sembra una roccia e non la devi spostare fuori dalla tua vista lontano dove magari sfortunatamente qualche furbino potrebbe approfittarsene ultimo consiglio se hai una powerbank così ti conviene utilizzarla perché dove c'è tanta gente internet ha problemi a connettersi cose magari ti si scarica il telefono o hai da fare il viaggio di ritorno con i mezzi pubblici e portati una powerbank non si sa mai sei bis il tuo costume include una katana include delle armi include delle cose un po' particolari che potrebbero essere fraintese e le vuoi portare veramente in metallo o di legno diciamo che ti conviene assolutamente controllare prima il regolamento della manifestazione però già da tanti anni le principali manifestazioni non accettano più delle armi in metallo cioè ti fanno storie anche se non sono affilate se non hanno la punta anche se dovrebbero accettarle detto questo la cosa migliore perché tu non abbia problemi è realizzarle in foam o in resina questo non te lo dico solo perché ti potrebbero fare storie se un'arma è di metallo ma anche perché immaginati che durante un'intera giornata che stai in giro e magari ti devi tenere l'arma in mano la devi sguinare continuamente per fare le fotografie devi fare insomma ti dico soprattutto se non sei allenato tenere continuamente un'arma pesante in mano se soprattutto non è ben bilanciata non è semplice io faccio anche gioco di ruolo dal vivo e quindi ti posso garantire che tenere una spada non bilanciata anche se molto leggera perché sono comunque in foam o in schiuma ti affatica molto la mano e perché soffrire quando puoi divertirti molto di più non avere assolutamente problemi e avere il tuo costume completo perché sono tantissime le armi che si vedono per esempio lasciate alle mura di lucca perché non puoi entrare con quel tipo di armi anche i bastoni di legno a volte non ti conviene farli in legno ma ti conviene piuttosto prendere una canalina da elettricista o un tubo da idraulici e rivestirlo col foam o con la carta pesta qualsiasi cosa anche perché anche il bastone da portare nonostante lo appoggi in terra anche quello ha un suo peso e immaginati magari tutto il costume anche quello ha il suo peso magari hai una borsa e quindi diciamo che a me piace semplificarmi la vita quindi ti do tutti questi consigli perché a me piace divertirmi alle fiere e quindi divertiamoci ed arriviamo finalmente al punto numero 7 detto questo fantastico hai fatto la fiera ti sei divertito sei tornata a casa hai fatto le foto qualsiasi cosa bene grande che ti sei divertito adesso c'è il momento di lavaggio e riparazione di un cosplay che è una delle altre cose che diciamo che quando ti dicono come cominciare a fare cosplay nessuno ti dice e quindi arriva Veronica e te lo dico io siccome mi occupo anche di progettazione di costumi in maniera tale che siano facilmente smontabili facilmente lavabili e che siano anche facili da indossare ci sono tante accortezze da avere quando vai a progettare il tuo costume detto questo non ti spaventare assolutamente non le devi utilizzare subito però se vuoi lavare il tuo cosplay ti do qualche dritta subito poi magari faccio un video super specifico su quello e una volta che ne avremo parlato avrai una panoramica molto più ampia però non ti voglio spaventare cioè anzi non c'è niente di cui spaventarsi arriviamo al sodo come devi fare perché il tuo cosplay sia lavabile se lo fai da te allora prima cosa è fatto in tessuto se è fatto in tessuto devi capire se il tessuto che utilizzerai per realizzare il tuo cosplay può essere lavato se può essere lavato allora lo metti a lavare senza sapone senza morbidente all'interno della lavatrice e gli fai fare il ciclo che gli faresti fare quando lo laverai io ti consiglio un ciclo per capi delicati massimo 30 gradi perché comunque nel cosplay utilizzando principalmente fibre particolari o stampati o dipinti a mano varie cose è più complicato andare su alte temperature se invece hai una tunicona bianca fantastica te la puoi lavare anche a 60 gradi tranquillamente non c'è problema ma prima devi lavarti il tessuto a 60 gradi il tessuto un po' soffre io 30 gradi vai tranquillo detto questo ok tutti i tessuti che utilizzerai andranno bagnati va bene utilizzerai anche delle copelle con le copelle si può lavare se si bisogna vedere come reagisce poi una volta al lavaggio a quel punto se utilizzi copelle o altri tipi di tessuti particolari o diciamo di stoffe o materiali particolari ti conviene lavarlo a mano comunque puoi lavarla ad acqua se hai fatto il prelavaggio del tessuto ma lo devi lavare a mano detto questo c'è un'altra domanda utilizzi degli adesivi utilizzi degli stabilizzatori utilizzi dei materiali particolari che si usano nel cucito non sono sicura che tu voglia lavarla in lavatrice e far rischiare quindi anche qui ti consiglio lo mettiti in una bella bacinella con un po' di marsiglia lo metti lì a bagno lo ciancichi un pochino smacchi dove devi smacchiare poi lo risciacqui senza stressare tanto il tessuto e il costume e lo levi e insomma lo stendi mi raccomando stendi all'ombra anche prima mi sono dimenticata di dirtelo quando vai a lavare i tessuti mai stenderli in pieno sole perché il sole rischia di farti andare via il colore prossima cosa hai dipinto a mano il tuo costume se hai dipinto a mano il tuo costume anche qui bassissima temperatura lavaggio a mano ok va bene tutto fantastico ma hai utilizzato anche il velcro cioè molto probabilmente se hai utilizzato il velcro te lo dico prima di utilizzarlo cerca di attaccare la femmina sul vestito e il maschio sugli accessori cosa è il maschio femmina questo vale anche per esempio per i bottoni a pressione per altre cose allora devi applicare praticamente la parte del velcro quella pelosa al vestito mentre quella con i dentini all'accessorio che non andrai a lavare o che laverai a mano perché questo se ti immagini magari ti è già successo se ti metti del velcro di quello a dentini e poi butti tutto quanto in lavatrice e magari in un tessuto molto delicato tipo andiamo sui rasi andiamo sulle sete andiamo sui lucidi sulla tappezzeria tipo broccato se vai se ti si aggrappa il raso al materiale a quel punto ti tira tutti i filini e ti distrugge il disegno quindi noi ci vogliamo levare il problema a prescindere quindi sul vestito ci mettiamo il velcro lato peloso e andiamo avanti penso di aver detto quasi tutto no ecco manca un'altra cosa se hai delle parti che sono stampate in resina che sono dei materiali particolari dei bottoni super belli delle cose super particolari mi raccomando non le lasciare applicate al costume se lo butti in lavatrice la resina ti consiglio di toglierla anche se cioè le cose dipinte ti consiglio di toglierle anche se vai a lavare a mano ma i bottoni se vai a lavare a mano ci stai un po' più attento e non hai problemi un altro super segreto per non dover togliere i bottoni se li metti in lavatrice è infagottarli in un pezzettino di cotoncino bianco lo leghi intorno e lo butti in lavatrice però non so quanto il risagliare dei rettangolini ricoprire il bottone legarlo e buttare la lavatrice quanto ti ci vuole meno togliere il bottone e poi riattaccarlo vedi un pochino se bene io direi che con queste informazioni super integrative del come viaggi e del come lo lavi poi il tuo cosplay abbiamo veramente fatto una panoramica completa nei prossimi video posso andare ad approfondire alcune cose però questo è veramente l'essenziale che ti serve da sapere per cominciare a fare cosplay soprattutto se lo vuoi fare per conto suo io ti auguro di fare un costume bellissimo su questo canale troverai tante informazioni continuerò a fare video a darti informazioni le troverai anche su altri social e prossimamente anche sul mio blog e detto questo ti auguro tanta creatività ti saluto io sono Veronica Forconi di Cosplay Fai da Te e ci vediamo presto ciao